E dentro ognuno di noi c'è veramente la voglia di riscatto, la voglia di riscatto perché è stato veramente un inizio di stagione da incubo. Alla fine tutte le squadre fanno carichi diversi, quindi non sai mai nelle partite di campionato devi pensare solo alla tua squadra, solo a noi a cercare di liberare individualmente, di gruppo, sia la condizione atletica che il gioco. Il campionato italiano è duro, è duro e tutte le squadre possono vincere e perdere contro tutti i nostri tifosi che sono sicuro che ci sosteneranno al massimo domenica. E quindi siamo pronti per una battaglia, per mostrare la faccia giusta e non subire come domenica ma essere mai aggredibili al riscaldamento e anche alla fabbacola.